Provata ad immaginare cosa significhi per una famiglia residente in campagna tra Novilare e Candelara, affacciarsi alla finestra e trovarsi impotenti di fronte a un branco di lupi che all'improvviso azzannano il loro cane Yogi e un piccolo Chihuahua. Difficile contenere la rabbia per Giulia Moscatelli che da venerdì mattina non può più stringere il suo amato cagnolino, i lupi hanno agito in pieno giorno e glielo hanno portato via. Praticamente venerdì mattina, come abbiamo fatto sempre, abbiamo lasciato il nostro cane dopo che era rimasto dentro e alle 10 e mezza praticamente il nostro cane era qui davanti nel giardino ed è stato preso, catturato dai lupi da un branco e preso e è stato portato poi verso la campagna dove poi è stato mangiato. Praticamente i lupi sono animali estremamente intelligenti, quindi erano sicuramente tre o quattro perché ho due maremmani e i maremmani sono stati attratti da quella direzione mentre Yogi è rimasto qua e poi è stato preso e portato via ed era molto piccolo, un meticcio è stato preso e portato via e l'hanno mangiato insomma. Non è neanche la prima volta che capita, è già successo con la madre, la Lilli era piccolina ed è successo l'anno scorso quindi sono stanca. Lei ha assistito a tutta la scena della finestra? È un forte guaito ma fortissimo, i nostri cani non abbaiano se non quando avvertono il pericolo quindi è stato veramente acuto come abbaio e non abbiamo fatto in tempo a fare niente perché sono estremamente veloci e quando praticamente siamo usciti non c'era più niente. La paura è stata indescrivibile, però la paura viene dopo perché l'intento era quello di prendiamo Yogi quindi viene dopo e quando realizzi che non c'è più la paura di averli avuti a due metri dalla finestra di averli avuto a veramente tre passi dal portone di casa è terribile non siamo più liberi di essere tranquilli, non possiamo più fare niente all'aperto Cerreto è un piccolo borgo dove tantissimi allevatori hanno polli, vitelli, capre, pecore, cani e quotidianamente si sentono queste cose. Anche l'altro giorno dieci capre sono state mangiate e un caprone, una capra era incinta e hanno lasciato lì il feto cioè non se ne può più Ricordiamo che è avvenuto alle dieci e mezzo del mattino quindi non è vero che i lupi escono solo di notte Esatto, questa è una diceria e è giusto che le persone sappiano che non è così perché i lupi non agiscono in base all'ora solare ma in base alla loro fame quindi se loro hanno fame di giorno cacciano di giorno è nella loro indole e va proprio perché è nella loro indole e si sono veramente in quest'ultimo anno moltiplicati perché fanno cuccioli, fanno figli non sono controllati, non sono più gestiti è giusto che vengano presi e spostati perché sono adesso troppo vicini alle abitazioni Giulia e la sua famiglia sono spaventati hanno paura che i lupi tornino da un momento all'altro per questo la giovane decide di lanciare un appello attraverso i nostri microfoni a chi di dovere per far sì che venga presa in mano la situazione e lo si faccia nel più breve tempo possibile Abbiamo il terrore anche perché abitando in campagna mi è stato detto lo tenga al guinzaglio io lo devo tenere al guinzaglio io che ho la possibilità di farli scorrere farli giocare farli stare a contatto con la natura sempre mi è stato detto li deve tenere al guinzaglio non è stato ben custodito cioè è inaccettabile è inammissibile una risposta del genere invece di dirmi guarda l'aiutiamo possiamo venire a fare un sopralluogo io non sto chiedendo chissà che cosa sto cercando la soluzione migliore per aiutare a tutti perché sta degenerando questa situazione non è giusto